Buongiorno, sono un server cloud infomaniac. E io sono il cloud tradizionale che conoscete già. Ehi, hai visto come i miei dati sono al sicuro? Non c'è nessuna possibilità che siano condivisi. Vi ho dei dati a tutti i contatti. Oh no, 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 no. Oh no, questo mai! Bene, vedi, il mio cloud è indipendente e so dove sono i miei dati. Anche tu hai ricevuto i miei dati? Eh, sì, avresti davvero dovuto metterli da infomaniac.